ciao a tutti bella gente di Neverwinter sono Cazzino Superstar bentornati in questo nuovo video e andremo a vedere insieme un attimo spero di essere il più veloce possibile per non annoiarvi andremo a vedere insieme un po' le campagne più che altro come sbloccarle qualche piccolo consiglio qua e la per evitare di farvi inceppare ok allora la maggior parte le sblocchiamo qui da Knox ci dirà dove andare cosa fare con chi parlare eccetera eccetera le campagne sono queste quindi saranno tutte le missioni che hanno un senso nel gioco diciamo tutte le altre mappe che sono fuori da questo registro saranno quelle che ci serviranno solo per livellare fino al 70 diciamo poi da 70 in poi inizieremo le campagne e all'80 lo faremo nelle campagne di sottomonte e saranno mappe che non faremo più le altre mentre queste ci serviranno per andare avanti nella progressione del suo personaggio ok dal bastone di Savras che servirà solamente alla fine all'ultimo per bloccare una borsa lo si fa per questo e per interagire nel suo negozio di Sibela per prendere diverse cose come le pittà della salute gettoni rarroll talenti cammini eccetera meno estraerlo e basta ok e l'ultima missione si fa a livello 20 di questa quindi se non me la fa fare non mi fa iniziare guardate il livello e vi darà una delle tante borse gratuite su cui comunque ho fatto anche un video dove vi dico tutte le borse parentesi non so se ne ho citata una in quel video che è quella che si può trovare a Tiamat con aprendo o non aprendo lo scrigno ok ma è un drop raro però può capitare ed è una bella borsetta e l'acquisition si fa da livello 15 all'ingiro per l'enclave troveremo questo manifesto ok cliccandoci sopra dovremo andare alla fila del mercato di Black Lake ok si chiama così si chiama la missione finita la missione lì a Black Lake dovremo tornare qui all'enclave sicuramente dovremo andare in quella caglietta in fondo dove c'è la mongolfiera come vedete in quella caglietta c'è lo stema di quel manifesto dal lato opposto c'è l'ingresso per dove si fanno le missioni per la campagna che man mano che tocca andare avanti logicamente tocca a cercare di livello per andare avanti e quella campagna vi consiglio di farla perlomeno c'è ogni campagna nuova dove c'è un dungeon o una schermaglia va prima completata la campagna per arrivare o al dungeon o alla schermaglia e poi si va ai doni però questa ve la consiglio particolarmente almeno fino a qui perché qui potremo mi pare o questo o questo quadrato non mi ricordo nelle due mi pare questo però sbloccheremo un incantamento al 3 sul 14 che è unico nel gioco non ci sono da comprare non si può pare non si può fare niente rimane così però inizialmente comodo ci darà potere critica penetrazione ok il male elementare si blocca al 60 dietro l'albero la ci sono due personaggi il druido che ci darà due missioni frugare dappertutto e luoghi difficili da raggiungere mi pare ci chiamino così e ci manderà in due mappe differenti una è bondown e una nella dei pirati volanti dove al termine della missione che i lati boss eccetera eccetera dovremmo raccogliere per ogni missione due semi per un totale di quattro insomma e poi aprire la cassa che c'è in fondo se non si illumina e baggata possiamo aprirla uguale se non l'apriamo non chiudiamo la missione e mi raccomando prima di lasciare la mappa controlliamo nell'inventario che abbiamo raccolto i due semi per ogni mappa quindi dobbiamo avere no cioè ogni mappa c'è due semi insomma mi raccomando se no dovremmo rifare tutto non sarà buono torniamo alle enclave chiudiamo le missioni ok poi parliamo col tizio a fianco ci farà fare qui una missione qua una missione qua da difendere l'albero e così bloccheremo il male elementale che è una campagna che si può fare anche tutto in un giorno infatti quella la consiglio all'ottanta ma non perché sia particolarmente difficile ma per il semplice fatto che per livellare sono migliorate le altre mappe quelle che ho già fatto vedere in diversi video ragazzi e poi all'ottanta una volta che avete l'equipaggiamento anche forte quelle del male elementale ci badate veramente poco io ho fatto la costa con la mia ladruncola che è il personaggio più scarso che ho diciamo tra quelli che uso e l'ho fatto in mezz'ora 35 minuti al massimo la costa se quindi capite che quel livello è molto più veloce ok poi altre campagne andiamo a vedere sottomonte a livello 70 si sblocca qui mi pare tocca parlare con knox e oppure tocca andare direttamente o comunque dopo tocca andare comunque alla maschera della pietra lunare parlare con never amber che in una stanza nei piani superiori aprire lo scrigno dove ci darà il primo equipaggiamento a livello 70 un po di cacca però sicuramente meglio di quella che abbiamo poi prima di uscire dalla maschera lunare scendiamo al piano di sotto parliamo al bar con un tizio che ci porterà direttamente nella missione di sottomonte dove io vi dico mi raccomando ragazzi ogni tre quadrati c'è una spedizione come vedete che alla fine di quella mappa per entrare in quella nuova ok non sono spedizioni maestro anche queste diciamo però tutte le spedizioni che facciamo all'interno almeno della campagna tutte vediamo di raccogliere tutte le reliquie ok è importante perché raccogliendo le tutte alla fine della campagna ci ritroveremo i primi tre oggetti del compagno importanti per noi che ci aiuteranno tantissimo se non prendiamo tutte le reliquie ci daranno delle cacchette ok quindi mi raccomando fatele tutte le reliquie all'interno della campagna ok poi una volta arrivati livello 80 è finita la campagna di sottomonte e bloccheremo star duck star duck star doc come cavolo si dice dove potremo andare a fare poi le spedizioni le ue o le quindi spese nel guardiano o frammento le fè e lì si troverà l'equipaggiamento migliore che si può per il compagno ok è lì che ci trovano i pezzi migliori e lo sbloccheremo poi dopo quello lì appunto di parte la finita con la campagna sottomonte a livello 80 al portale spalancato dobbiamo andare nel piano in alto del portale parlare con cavatos come si chiama quello lì prima di uscire anzi non dobbiamo uscire a fianco a cavato c'è un tavolino dobbiamo evidenziarlo perché da lì partiremo per star duck e iniziamo le missioni tessa cosa un attimo che prima che non ho detto che a si bella quando iniziate la campagna che vi andate da lei a parlare non uscite subito anche se vate alla missione evidenziate il tavolo a fianco anche lì c'era una mappa da evidenziare e da lì si chiuderà una missione dovete parlare di nuovo con si bella comunque in quella maniera si attiverà la missione altrimenti non partirà piccola cosa che credo che mi ero dimenticato avernus a livello 80 ci blocca quella in clave da knox ci darà la missione una casa da salvare e ci porterà in una specie di fortezza facciamo la missione che dobbiamo fare ci dopo un po ci porterà direttamente ad avernus parliamo quei tizi dentro il castello e per avere le missioni dobbiamo entrare qui nella campagna attivare il primo quadrato altrimenti non potremmo fare nulla cioè non potremmo progredire con la campagna ok mi raccomando alcuni rimangono bloccati per questo perché non ci fanno caso molte volte tocca entrare nelle campagne attivare il primo quadrato per esempio per poter continuare ok pvp pvp non ho idea la tirannia livello 26 si blocca qui l'enclave dal da bower dal pista bower come si dice che sta più o meno qui ci manderà a never death dobbiamo fare delle missioni completiamo ci daranno resoconto degli art piste torniamo che chiediamo la missione e nella campagna consiglio mio per quel che riguarda velocizzare poi fate voi prendete solo il primo quadrato e poi direttamente i doni perché così tutti i giorni le missioni settimanali e tutti i giorni mettoni settimanali semmai tutti i giorni le missioni giornaliere e una volta alla settimana quella settimanale le faremo comunque sempre a never death che è la mappa più veloce se blocchiamo gli altri e ci dovremmo trovare una volta di qua una volta di là è più lunga insomma ci badiamo più tempo e visto che avete molte campagne per quel che mi riguardi vi do questo consiglio bloccate il primo quadrato e poi comunque siano temati coi doni ok vi serviranno dei libri per gli ultimi quattro doni per il quarto ultimo servono il trattato di arle che adesso poi a questi libri a parte l'ultimo costicchiano e questo si droppa o a tour o allo smout c'è la possibilità di droppare il secondo libro sono le indagini dragoniche di brainer che una volta non costava una ceppa adesso costa uguale costa molto come come arle e anche questo o tour o lo smout l'ultimo libro e l'affinità insomma questo qui l'incantamento della regina drago vi consiglio di comprare direttamente due adesso vedete perché comunque spendete dai due tre mila diamanti estrali al massimo per tutti e due vi consiglio di comprarli perché dico due perché per l'ultimo dono vi servirà ognuno degli altri libri di tutti i libri che avete usato in precedenza quindi in totale di ogni libro ce ne serviranno due ok poi a livello 60 c'è il mezzo engine questo si sblocca mantol derit cioè se in ogni campagna dove vedete inizio campagna andate a cliccarci perché vi può dare delle informazioni utili dove andare con chi parlare eccetera ok ci si sposta sinistra col touchpad ok e poi ci saranno la missione giornaliera una cosa importante per evitare di farvi perdere tempo a volte vi darà delle missioni che parla di capitoli e quelli sono missioni a sé particolare diciamolo poi altre volte vi darà vi esseranno due voci da scegliere blu una è raccogli racconti l'avventura e l'altra difendi la costa della spada allora quando ci sono tutte e due le missioni dovete prendere tutte e due perché una vi darà questa questa cosa qua e racconti l'avventura appunto sta pergamena e difendere la corta servirà per fare appunto la missione per ottenere questo questa valuta se invece troverete poi solamente la voce difendi la costa che quindi non avete un'altra che vi dà questa valuta non la prendete perché sono missioni poi ripetitive che però non vi danno la valuta per andare avanti con la campagna ok sharandar livello 64 si sblocca qui alla enclave parlando con una tipa qua vi farà fare una missione della vecchia sharandar qualcosa del genere una premissione fatta con la missione lì vi troverete sharandar fate la missione che vi farà vi farà richiesta dalla tipa quando lo andrete a chiudere ok dovete anche raccogliere tre specie di foglie da dare nell'albero per per poter attivare il primo quadrato nella campagna ok quindi una volta messi le tre foglie nell'albero e attivate il primo quadratino nella nella campagna questo qua piante vivaci dovrete mi pare di nuovo parlare con la tipa di a sharandar parlare con un tizio di vicino che è dentro una specie di cerchio un simbolo per terra come c'è qua l'enclave diciamo ragazzi qua dove c'è il fuoco c'è quella specie di simbolo grande per terra a sharandar guarda dopo c'è un altro tizio tipo un simbolo come quello dovete parlarci e poi riparlare con la tipa sharandar perché altrimenti finché non vi dà la voce torna domani perché se no non potete mai iniziare la campagna ragazzi ok mi raccomando fate attenzione a quella cosa lì e si sblocca partendo prima tutte le robe nel mezzo ragazzi e poi facciamo i doni ok perché sono andiamo a sprecare scintille non ogni mappa perché questa è una mappa questa è un'altra questa è un'altra quindi prima mappa seconda e terza mappa per prendere i doni ci serviranno delle valute che si troppano ognuno in una mappa diversa ok quindi di qua lasciate perdere finché non avete finito la campagna prima nel mezzo e poi si comincia quei doni ok sottosuolo si fa quei fizzero si guadagnano con incontri demoniaci con demogorgon con la follia col trono dei nani e con castelnever e ce ne vogliono 200 per ogni punto qui ci vuole circa un mese poco più ogni ogni puntino viola è un è un punto ragazzi ok quindi il resto dei fizer non li consumate di qua i doni li potete prendere quando potete perché non consumano fizer di qua invece aspettate di fine a destra finita della campagna prima e due cose che vanno dette gli ultimi tre doni servono dei libri particolari che allora le tecniche di caccia si droppano negli incontri demoniaci la spiologia nanica o a demogorgon o al trono e si può trovare sia dentro che fuori lo scrigno e il tocco della follia dovrebbe essere oltre alla follia proprio anche demogorgon ok però la follia non so se tocca per forza per lo scrigno o te lo può dar fuori non mi ricordo ragazzi ok demogorgon troppo dare anche fuori ma la follia non lo so ok e queste altre cose qui le core demoniache queste le potete consumare all'interno del negozio tanto non vi serviranno nient'altro e potete prenderci diamanti a stare e grezzi ogni 150 mila diamanti visto che tanto non ci fate nulla farete una piccola scorta nel salvadanaio ok anello del terrore si blocca a livello 70 e precisamente si blocca qua parlando con un tizio vi darà una missione vai al campo delle ceneri una roba del genere e farete una premissione tipo quella di della vecchia saranda vi ritroverete all'anello del terrore anche lì fate tutte le missioni parlate con tutti assicuratevi che poi anche lì dovrebbe darvi una una voce del tipo torna domani qualcosa del genere quindi assicuratevi di far tutto o rimarrete bloccati insomma e a zero un poco per senza non partirete con con la campagna vera e proprio che mi raccomando importante e anche lì il terrore come un attimino il terrore abbastanza semplice facendo le due missioni giornaliere e una settimanale otterrete le valute per andare avanti nei vari quadrati qui potete tranquillamente semplicemente andando avanti prendere i doni non vi viene richiesto un libro almeno qua non vi viene richiesto niente andate avanti la parte di qua ragazzi è come al solito si fa fine campagna ok prima la campagna e poi il resto ok nulla di praticamente difficile qui punto tra le missioni che vi servono per le valute dovrete fare degli incontri demoniaci quindi c'era un modo anche per guadagnare fizzera torkin thunder vela da knox e mi pare che sia knox comunque vi verrà nominata una missione di vai al festival di braia shander e da lì comincerete le varie missioni in uno di particolare a valle di ice win dovreste poter andare direttamente voi a livello 70 mi dovrebbe essere sbloccato un messaggio qualcosa comunque andando dalla mappa del mondo dovreste vedere vai nella valle di ice win la voce vale di ice win dovrebbe essere bloccato car conig e ci potete andare tranquillamente e qui per andare avanti con la campagna avete di bloccarmi mi pare sia prima la forza di ghiaccio ma la prima solo il primo il resto non serve ok e poi potete andare andate direttamente tutti i doni ok e di qua lasciate perdere cioè perlomeno questo la chiave di ritirata di che è una bufala ragazzi non la fate c'è una volta serviva per aprire l'altro scrigno adesso non so perché è buggato non funziona io con un personaggio ne ho 4 5 non posso usarle se usassi una chiave del drago leggendario me la fa aprire questa che la chiave sua non so perché o è buggato non idea ma non funziona quindi non pregate neanche neanche le cose anche qui se volete al massimo fini finiti doni o prendete i pezzi di come estetica oppure diamanti astrali alcune campagne hanno questa voce qui forse delle ricchezze del e il nome della campagna ok e ci prendono con i favori del genio e ogni borsetta vi dà tot valute della della medesima campagna che è quindi per velocizzare ok proprio foglia un po come come estetica insomma vedo fatto che toccherebbe cambiare un po di colore ma vabbè siamo perle ok quindi lasciate perdere sta chiave qui sono altre cose ma a fine campagna si sono i tesori ghiacciati ma non mi interessano e sui promessi del manto si dovrebbe prendere qui è sempre da knox o da reverember e ci dovrebbe partire da questa zona qua parlando con uno vi deve portare al distretto del fiume oppure penso prima quando avrebbero qua su in cima quindi o knox o reverember e poi entrambi i casi toccherebbe partire penso da qui e partirà le missioni e seguirete la storia nulla anche qui di particolarmente difficile culte è sempre knoxo mi ricordo male vi dà una missione che vi parla di una maledizione di qualcosa o che vi dirà e vi manderanno una mappa alternativa della roccia della rivendicazione a parlare con dei tizi che vi diranno di parlare con un certo cristofer mi sa e si trova qui dopo qui nel mercato dei sette soli come si chiama troverete sto tizio che vi dirà qualcosa poi o dovete tornare a parlare con neverember o con knox oppure direttamente sempre da questa zona qui delle enclave si parte per andare al porto del distrato del fiume e da lì a chult però proprio ci chiama vai al porto capito che non dovete andare al distretto c'è anche se si parla di mappe che dove fate altre cose hanno a volte dei nomi differenti appunto come quella dell'acquisition ti dice vai al mercato del lavoro di black lake non a black lake insomma capito ha proprio il nome se andate a vedere nel nel portone quando si può andare un nome diverso ok ravelof anche questo qui ve la darà knox vi dirà di aiutare qualcuno in un maniero o qualcosa del genere e farete una missione una mission cina così vi ritroverete a varovia nulla di particolarmente complicato vi ripeto il male mentale fatto le velo tante che almeno andate veloci con un filo di gas e alcune campagne appunto per per iniziare per le emissioni per attivare i quadratini dentro il primo quadratino ok altre maghe tocare a parla con delle persone ritirare delle ricompense quindi si bloccate guardate dentro le campagne se avete attivato quello che dovete se avete attivato le compense se avete parlato con tutti guardate nel diario che vi daranno delle informazioni altre campagne quando le iniziate guardate la voce inizia campagna quindi vi daranno delle dritte e qui insomma sono molti metodi per evitare di bloccarsi perché a volte nasce veramente più da volta ragazze nasciapato che il video finisce qui spero di noi si è divulgato troppo però spero di avervi spiegato meglio possibile come fare le varie campagne come trovarle eccetera se il video vi è piaciuto soprattutto vi è stato utile lasciate un bel like vi invito a iscrivervi al canale e come al solito ragazzi mi raccomando mi raccomando fate i bravi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ragazzi buon game ciao